Siamo con Alfonso Ricciardi, vice sindaco uscente, nonché candidato sindaco della lista Liberi di guardare avanti che entro sabato verrà presentata all'ufficio elettorale del Comune per poi concorrere per la conquista del governo cittadino della comunità dei Liberi per i prossimi cinque anni. Allora, candidato sindaco, siamo pronti, siamo ai nastri di partenza, siamo pronti per questa nuova battaglia e questa volta con la sfida in più di conquistare la fascia tricolore. Sì, una nuova sfida, quindi mi candidato a sindaco. Il gruppo grossomodo è rimasto lo stesso. Abbiamo solo, c'è stato qualche aggiornamento, qualche vicendamento, giovani nuovi e già hanno dimostrato tanta voglia di fare. Continuiamo un po' sulla, diciamo, diamo continuità al nostro gruppo che già da un po' di anni ha iniziato una serie di riforme strutturali, una serie di riforme e di programmazioni e quindi sarà una continuazione un po' del gruppo esistente. Nel solco della continuità, ma sicuramente con nuovi obiettivi e nuovi programmi, se ce li vuole esporre, soprattutto per grandi linee, soprattutto quali sono i progetti sui quali lavorerà da subito e quelli poi più importanti da conseguire e attuare nei prossimi cinque anni? Allora, sì, nel segno della continuità diciamo che la riforma degli uffici, abbiamo assunto nuovo personale, quindi questo al fine di garantire servizi ai cittadini in maniera celere e in maniera poi efficace. Teniamo molti progetti in corso e molte opere partiranno in questi giorni, molte partiranno appena dopo le elezioni, quindi diamo una serie di opere che sono per il paese. Poi successivamente, diciamo, fondiamo molto sul PNRR e soprattutto per le scuole, quindi intendiamo comunque rinnovare e riqualificare tutti gli istituti scolastici. Teniamo l'obiettivo principale quello dell'ambiente, quindi ripristiniamo i sistemi fognari, comunali, gli impianti di depurazione che comunque stanno al collasso, quindi diciamo soprattutto l'ambiente e soprattutto poi le opportunità che ci darà il PNRR. Due battute finali veramente telegrafiche. La prima sulla composizione della lista, su quale squadra la affiancherà nei prossimi cinque anni al governo del Comune di Liberi e una battuta finale anche su quale sarà la vostra campagna elettorale e su che clima si aspetta in campagna elettorale. Allora, come dicevo, la squadra in parte è costituita da consiglieri uscenti, dallo stesso Sinnaco uscente e quindi da una buona parte dei consiglieri uscenti. Molti sono giovani, nuovi, è la prima esperienza, però hanno tanta voglia di, diciamo, di mettersi in gioco. Diciamo che hanno subito condiviso i nostri progetti politici, infatti da subito si sono uniti al nostro gruppo e abbiamo formato questa squadra che si propone di amministrare nei prossimi cinque anni il Comune di Liberi. Ovviamente se i cittadini ci daranno il sostegno elettorale. Spero che sia una campagna elettorale soprattutto corretta, fatta sui contenuti.